Ore calde in casa Napoli e ormai noto il cambio di allenatore, Walter Mazzarri lascerà la panchina a Francesco Calzona. Nella giornata di oggi c'è stato l'incontro tra il nuovo allenatore del Napoli e Aurelio De Laurenti, sono stati definiti tutti i dettagli e l'annuncio potrebbe arrivare già in serata. Nell'andamento del Napoli, ne ha parlato ai nostri microfoni, Francesco Repice facendo il punto della situazione e sottolineando come Mazzarri non sia l'unico colpevole, ma che molto e soprattutto dipende anche della condizione fisica dei calciatori. Non credo che non abbia le conoscenze, la capacità, l'esperienza, lo spessore per guidare una squadra seppure fortissima come il Napoli. Io credo che purtroppo quest'anno non ci sia resi conto che non poteva essere come quello passato, che tutti quanti avrebbero incontrato le medesime difficoltà, se non le stesse difficoltà, comunque delle difficoltà e quindi io non so esattamente cosa sia successo all'interno dello spogliatoio, che la fortuna degli allenatori sono i loro calciatori e che i calciatori non sono gli stessi ogni anno, nel senso che non danno le medesime prestazioni ogni anno. I giocatori cambiano, cambiano nella testa, cambiano magari nel modo di allenarsi, cambiano nel modo di pensare e possono avere un rendimento diverso rispetto a quello della stagione prima.